Giorno 1 Vediamo un po' cosa dobbiamo fare Ok, questo è dove si ingestiamo tutto Non so come funziona questo gioco Turnrite Ah Tony Tony Perdona se va a bascatti ma è in Illyaccess Questo mi sembra uscire completo Ho un problema ragazzi Spezzato, sento l'audio Questo gioco potrebbe essere molto interessante In un momento di guvinare tutorial Questa è un timer Che devo fare? Che devo fare? Ah Ho fatto tutto Ok 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 Che dovrei fare? Mi sto gasando Che non è un'altra parte di guvinare Qua dobbiamo gestire tutti il truccatore, cioè è geniale, è geniale questo fatto. Ok, direi di andare. Ok, 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 ci stiamo, ci stiamo. Mi piace, sta piacendo tantissimo, che figata. Ok, abbiamo preso il gioco qua, perfetto, qua ci stiamo. Abbiamo preso questa frequenza o no? Sì, sì, ok, aspettate, aspettate. Ok, 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 qua ci stiamo. Ok, ok, che dovrei fare con questi tasti? Ho fallito i broadcast. Come? Che ho fatto? Non so ragazzi cosa ho fatto, perdonatemi. Però, not for broadcast, questo gennaio uscirà totalmente, è che questo è un viaccess, però su questo, magari proviamo nuove stanze in futuro, vedremo. Quindi ragazzi, al prossimo video. Ciao!